50 milioni di euro di droga sequestrati al porto di Gioia Tauro a subire le indagini della sezione antiterrorismo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, questa volta non sono le indrine locali ma niente poco di meno che l'ISIS. Nella notte infatti gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito il maxi sequestro di un ingente quantitativo di tramadolo sbarcato al porto Gioiese proveniente dall'India e diretto in Libia. O piace o commercializzato fin dagli anni 80 come antidolorifico e usato a scopo ricreativo nei parti esclusivi dei paesi del Golfo negli anni 90, a partire dagli anni 2000 il tramadolo ha iniziato a essere diffuso nei territori di Jihad per motivare le truppe. Oggi infatti è usato come sostanza base per la sintesi della cosiddetta droga del combattente. Mischiato ad altri componenti, anche alla banale caffeina, il tramadolo infatti si converte in una potente anfetamina in grado di cancellare paura, dolore e fatica. L'input investigativo è partito dal secondo gruppo della Guardia di Finanza di Genova che nell'ambito di un'operazione dello scorso maggio aveva proceduto ad un analogo sequestro nel porto del capoluogo Ligure. La vendita al dettaglio del farmaco sequestrato avrebbe fruttato circa 50 milioni di euro, in quanto ciascuna pastiglia sul mercato nero nordafricano e medio orientale viene venduta a circa 2 euro. Secondo le informazioni condivise con fonti investigative a essere, il traffico di tramadolo sarebbe gestito direttamente dall'ISIS attraverso la Daesh al fine di finanziare le attività terroristiche che l'organizzazione pianifica e realizza in ogni parte del mondo. Un'altra parte della vendita di tale sostanza invece sarebbe destinata a sovvenzionare gruppi di eversione e gli estremisti operanti in Libia, Siria e Iraq. L'operazione si avvalsa anche della preziosa collaborazione della DEA americana e della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga presso il Ministro dell'Interno ed è il supporto del Comando Generale della Guardia di Finanza che negli ultimi tempi hanno intuito i rapporti tra Andrangheta e organizzazioni del Medio Oriente. Si tratta ancora di tasselli disordinati ma che si sta cercando di mettere insieme.